A Fabriano incontro tra sindacati e azienda Giano, su 195 operai un terzo ricollocato nelle Marche, questa l'ipotesi dopo la chiusura fine anno. Tentato stupro al centro di Pesaro, resta in carcere trentenne del Bangladesh. Davanti al GIP ha affermato che la donna peruviana gli avrebbe offerto sesso a pagamento per poi cambiare idee. Edoardo Leo incontra gli universitari a Macerata, lezione contro la violenza di genere, tema su cui è incentrato il suo nuovo film in uscita il 14 novembre. Ascoli, 500 tifosi a Pineto, sold out il settore ospiti dello stadio abruzzese, Caccavo, squalifica ridotta, Samba riparti subito dopo il primo capo stagionale, domenica trasferta ai 0. Il più cordiale è ben ritrovati, nuova edizione del nostro telegiornale delle Marche. L'avete sentito dai titoli a Fabriano fumata grigia dopo l'incontro tra i rappresentanti del gruppo Fedrigoni e dei sindacati di categoria delle 195 persone coinvolte dalla chiusura a fine anno della società Giano, 105 troverebbero una ricollocazione nelle Marche. Sentiamo Gino Bove. Oltre 180 opportunità di ricollocazione per i 195 lavoratori che rischiano il posto con la chiusura della Giano, società del gruppo Fedrigoni che produce carta d'ufficio. 105 lavoratori sui 195 interessati potrebbero essere ricollocati in altre aziende dello stesso gruppo che hanno sede nelle Marche, gli altri nel nord Italia. Oltre a questo, previste una ventina di prepensionamenti. Queste le proposte emerse nell'incontro mattutino tra i rappresentanti aziendali e quelli sindacali. Le parti però restano ancora distanti. In tutto sono 180 opportunità lavorative che abbiamo individuato, di cui 105 nelle Marche, 55 in nord Italia e poi abbiamo anche 20 possibili prepensionamenti. Quindi gli esuberi verrebbero con queste ipotesi gestiti senza licenziamenti collettivi? Diciamo che verrebbero fortemente ridotti e poi quindi di fatto senza esuberi effettivi. Rocchetta rimarrà aperta, ovviamente rimarrà come polo logistico, ma anche come centro di taglio di carte particolari, come per esempio Fabriano Colore, che è una carta che noi vogliamo continuare a fare, anzi a implementare. Quindi solo sul sito di Rocchetta ci saranno 10 posizioni aggiuntive proprio per questo motivo. Lo stabilimento rimane come polo, diciamo logistico, strutturale, l'area Marche, ma il personale non lavora più dentro lo stabilimento, se non pochissime unità, quindi siamo proprio contro questo tipo di proposta. Rimane nei nostri tentativi e obiettivi quello di arrivare ad un impatto zero, dunque l'occupazione piena deve rimanere tale. Si parla solo di ricollocamento e non si parla di mantenere aperta la produzione su questa famosa macchina F3, che per noi è fondamentale per la sovvivenza di tutti gli stabilimenti dell'area marchigiana, perché per noi quello è il nucleo di produzione di tutta l'area degli stabilimenti che si trovano sull'area Marche. Quindi sì, andremo avanti per la nostra strada, quindi continueremo a tenere aperto lo stato d'agitazione. Chiaramente adesso la data più importante per noi è quella del 4 novembre al Ministero, dove ci aspetteremo qualche risposta in più anche dal punto di vista istituzionale. Se uno parla di zero e superi e poi, capito, comunque li ricolloca, è il gioco dei vasi comunicanti, li togli da una parte, capito, li prendi da una parte e li ritogli dall'altra, cioè sempre gli superi ci sono. C'è la possibilità di parlare, riteniamo che comunque l'incontro al Ministero per la conservazione del marchio Fabriano e tutto il resto è fondamentale per riuscire a recuperare una situazione, a vedere il cimitero degli elefanti, cioè con la macchina piana ferma e tutto lo stabilimento di rocchetto quasi ferma, è insostenibile. Un piccolo passo avanti, possiamo dire, ma sicuramente una soluzione insoddisfacente. Fabriano, nonostante il ricollocamento che è stato posto sul tavolo della trattativa dalla società, perderebbe comunque 100 posti di lavoro e anche di più, non considerando peraltro poi tutti somministrati, non considerando poi tutto l'indotto. Non si parla di riqualificazione, non si parla di investimenti, quindi diciamo un piccolo passo che però non è soddisfacente, non è risolutivo e come io ho manifestato la società, io, l'amministrazione, la città di Fabriano farà di tutto per mantenere fino all'ultimo posto di lavoro sul nostro territorio. È stato convalidato dal GIP del Tribunale di Pesaro l'arresto con custodia cautelare in carcere del trentenne del Bangladesh, fermato lunedì mattina in piazzale Matteotti mentre stava cercando di abusare di una donna peruviana. L'uomo accusato di violenza sessuale davanti al GIP ha fornito una propria versione dei fatti. Ha parlato davanti al GIP il trentenne del Bangladesh accusato di violenza sessuale, ha fornito la propria versione dei fatti, non c'è stata da parte sua una missione di responsabilità per quanto accaduto lunedì mattina intorno alle 5 in piazzale Matteotti a Pesaro. Ha detto che sarebbe stata la donna, 49 anni, di origine peruviana, ad approcciarlo per prima offrendogli una prestazione sessuale a pagamento. Il giudice ha convalidato l'arresto, ha ritenuto sufficienti gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo confermando la richiesta del PM della custodia cautelare in carcere per via di una possibile riterazione del reato. L'intervento dei carabinieri all'alba di lunedì nel piazzale alle porte del centro storico dopo l'allarme è arrivato dai residenti che avevano avvertito le grida della donna. Al loro arrivo i militari hanno trovato il trentenne seminudo che stava cercando di abusare della donna. Alla vista dei carabinieri ha tentato di scappare e per questo è stato accusato anche di resistenza pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il trentenne, completamente ubriaco, avrebbe incrociato la 49enne. I due non si conoscevano, lui non ha resistito all'impulso sessuale. L'avrebbe presa e trascinata di peso verso il bagno che si trova dietro il chiosco. Qui, dopo averle sfilato i pantaloni, avrebbe cercato di abusarla, bloccato dall'intervento tempestivo dei carabinieri. Nella versione davanti al jeep del trentenne, difeso dall'avvocato Michele Mariella, il primo approccio sarebbe stato dalla peruviana, seduta su una panchina in piazzale Matteotti. Lei gli avrebbe offerto una prestazione sessuale a pagamento. Ricevuto il denaro dall'uomo, la donna avrebbe cambiato idea, vedendolo ubriaco. Da quel momento una lunga discussione, secondo quanto raccontato dall'indagato al jeep. Lui rivoleva indietro i soldi, ma lei si sarebbe rifiutata, poi gli animi si sono scaldati. L'avvocato Mariella riferisce che nel video ripreso dalle telecamere, in possesso delle forze dell'ordine, si nota che l'uomo ferma e trascina la 49enne dietro al chiosco, dopo che lei aveva cercato di andarsene, in seguito alla discussione sulla panchina. Il legale del trentenne valuterà nelle prossime ore un eventuale ricorso al tribunale del riesame, nei confronti dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Convalida del fermo per il 28enne che lunedì mattina ha rapinato, armato di martello, la farmacia San Tommaso sulla costa fermana. Deciderlo è stato il GIP, Teresina Pepe, che nonostante le accuse di rapina aggravata, appropriazione indebita e porto ingiustificato di strumenti atti a offendere, essendo l'operaio incensurato, ne ha disposto la detenzione ai domiciliari in Calabria. Presso la sua residenza, davanti alla giudice, il giovane, fermato poco dopo la rapina, era stato fermato dai carabinieri, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Maria Primerano, la giovane italo-russa, trovata morta in un appartamento di Porto San Giorgio, è deceduta per inalazione da monossido di carbonio o per intossicazione da alcol. Quanto emerge dall'autopsia eseguita dal professor Rino Froldi, ma bisogna attendere l'esito delle analisi tossicologiche. Stefania Serino. Un braciere artigianale con dentro foglie sterpaglie bruciate e quella bottiglia di gin vuota. Restano due le ipotesi legate alla morte di Maria Primerano, la 32enne di Genova trovata senza vita in un appartamento di Porto San Giorgio. La donna italo-russa potrebbe essere deceduta per aver inalato monossido di carbonio oppure esser stata vittima di una intossicazione da alcol. Per stabilirlo, con certezza, occorre attendere l'esito delle analisi tossicologiche eseguite nella mattinata di giovedì dal professor Rino Froldi dell'Università di Macerata dopo l'autopsia effettuata mercoledì all'ospedale di Fermo. Tra le cause del decesso al momento viene esclusa la morte violenta per mano di terzi. Si era parlato di ecchimosi, ovvero di lividi trovati sul cadavere. Ma in questo caso si tratta di ipostasi, ovvero del ristagno del sangue non più pompato dal cuore che esce dai vasi e lentamente filtra attraverso i tessuti. L'autopsia ha consentito anche di constatare che il decesso fosse avvenuto circa quattro giorni prima. Il rinvenimento del cadavere è avvenuto in una casa situata in piazza 25 Aprile, dove la 32enne alloggiava da appena un mese. La donna, infatti, si trovava a Porto San Giorgio dal 13 settembre. Era giunta in treno da Genova per poi ritrovarsi da sola in quella casa dove aveva sbarrato porte e finestre. A lanciare l'allarme nella mattinata di sabato era stata la donna delle pulizie che aveva sentito un odore insopportabile. Dunque si chiude il cerchio su un caso che si era tinto di giallo ma che adesso lascia spazio al dramma di una giovane donna morta nella solitudine. In questo giovedì d'allerta gialla, il maltempo ha interessato in particolar modo la zona di Marotta, sud di Fano. Qui nella notte si sono verificati nuovi allagamenti. Ha richiuso il sottopasso delle rane che nell'ultima ondata di forte pioggia del 19 ottobre era stato completamente invaso dall'acqua. Disagi in via Ferrari e altre strade dell'abitato marottese che già nei giorni scorsi erano state ricoperte di fango. Non è stato necessario chiudere alla circolazione la statale 16 mentre è esondato di nuovo il fosso delle camminate. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per la caduta di due alberi su auto in sosta. sia a Villa Potenza di Macerata dove una quercia cadendo ha danneggiato una vettura e una porzione di un fabbricato che in via della Montagnola ad Ancona. Non risultano però feriti. L'assessore regionale all'infrastrutture Francesco Baldelli ha presentato questa mattina a Fossombrone i sindaci delle province di Pesaro Urbino e Ancona i risultati del bando con i progetti comunali ammessi al contributo per la riqualificazione delle strade. 40 i progetti ammessi. 40 progetti comunali sono stati ammessi ai finanziamenti per un massimo di 300 mila euro concessi dal bando strade 2024 della regione Marche per il miglioramento e la sicurezza della viabilità. L'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli ha presentato gli esiti del bando ai sindaci dei comuni interessati nelle province di Ancona e Pesaro Urbino nella chiesa di San Filippo a Fossombrone. 20 comuni delle due province che otterranno i finanziamenti. L'investimento complessivo delle opere per tutta la regione è di 12 milioni di euro. La regione Marche continua ad essere vicina ai nostri comuni, a tutto il territorio, anche alle pricchevole realtà comunali. Lo avevamo detto sin dall'inizio che saremo stati al fianco dei sindaci e delle amministrazioni comunali per essere al fianco dei cittadini delle Marche troppo spesso dimenticati nei loro bisogni primari. Opere puntuali che sono grandi opere però per le realtà cittadine che vengono finanziate. 7 milioni e 700 mila euro che vengono ripartiti sulle cinque province dalla giunta a Acquaroli per interventi sulla sicurezza stradale sul miglioramento e l'accessibilità dei nostri comuni. Tra l'altro risorse ripartite casualmente perché è un bando in maniera equivalente tra il nord e il sud della regione. 20 comuni tra le province di Pesaro, Urbino e Ancona e 20 comuni nelle altre tre province del sud delle Marche e quindi Fermo, Ascoli, Piceno e Macerata. In 48 mesi di giunta a Acquaroli stiamo distribuendo ai comuni marchigiani per le loro esigenze, che poi sono esigenze di cittadini, circa 120 milioni di euro che equivalgono a 165 milioni di investimenti per le opere pubbliche di grandi e piccoli comuni della nostra regione. A partire dalle 10 di questa mattina si stanno verificando problemi tecnici nel sistema centrale di accoglienza ricette gestito dal Ministero dell'Economia e Finanza attraverso Sogei. Lo fa sapere la regione Marche che spiega questi non funzionamenti determinano l'impossibilità di emettere la ricetta da parte dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici prescrittori e l'impossibilità di prenotare la prestazione in qualsiasi centro abilitato alla prenotazione CUP, farmacie, sportelli delle strutture sanitarie per il cittadino che è già in possesso della ricetta dematerializzata. A causa di questi problemi la regione Marche sta attivando tutti i canali possibili per sollecitare il Ministero e Sogei. I tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile, conclude la nota della regione. Boom di sequestri di hashish e marijuana nelle Marche ma calano i decessi per abuso di droghe lo riferisce il report annuale del Ministero dell'Interno. Vediamo. Nelle Marche si muore meno di overdose ma il traffico di droga continua a proliferare con un aumento del quasi 60% dei quantitativi sequestrati dalle varie forze dell'ordine. I dati sono contenuti nell'ultima relazione annuale del Ministero dell'Interno sulla droga in Italia e nelle regioni con statistiche che riguardano l'anno 2023. Dal report del governo si scopre che nella nostra regione i decessi per abuso di sostanze stupefacenti sono stati 13 nel 2023 rispetto ai 21 dell'anno precedente con una variazione del 30%. I sequestri antidroga sono stati 497 in leggero aumento rispetto ai 489 del 2022. Lo scorso anno sono state segnalate all'autorità giudiziaria 601 persone in calo rispetto ai 621 dell'anno precedente. Nel giro di un anno è aumentata la quantità di hashish sequestrata passata dai 76-37 chili del 2022 ai 260-29 del 2023. Come pure la marijuana, se nel 2022 fu sequestrato un quantitativo pari a 453,08 chili, nel 2023 è salito a 752,72. Diminuiti invece i quantitativi di cocaina sequestrati. Lo scorso anno le forze dell'ordine hanno ritirato dal mercato dello spaccio 13,58 chili di polvere bianca, mentre nel 2022 erano stati 56,89. Cala anche il sequestro di eroina, 8,09 chili nel 2023 rispetto ai 65,33 del 2022 con un'inflessione dell'87,61%. Ci sono poi le altre droghe. Ultimamente si è parlato ad esempio del fentanil, la cosiddetta droga degli zombie che spopola in America. Dunque, il fentanil è un oppiaceo di sintesi. È 100 volte più forte della morfina. Le modalità di assunzione sono in via endovenosa oppure anche in tramuscolo. Chiaramente in via endovenosa l'assunzione è immediata, crea una depressione del centro respiratorio e quindi oltre a una grande sedazione. Io, per quello che sono i miei dati, la circolazione, la circolazione tra virgolette del fentanil nella nostra regione non c'è. Ci saranno stati dei casi sporadici certamente, ma un movimento importante o anche significativo non c'è del fentanil. In America ha fatto una strage e via dicendo, ma nella nostra regione questa circolazione di questa sostanza no. Quali sono le droghe che sono più utilizzate attualmente? Le sostanze stupefacenti più utilizzate sono chiaramente la cannabis e poi la cocaina al pari dell'eroina. Queste sono le più oltre alle nuove droghe ma per le quali abbiamo difficoltà a individuarle perché sono circa 900, circa le nuove sostanze stupefacenti. quindi poi ci sono anche i cannabinoidi sintetici. Però la parte del leone la fanno sempre la cocaina, l'eroina e la cannabis. Intorno alle 12.30 di oggi una squadra della centrale di Vigili del Fuoco è intervenuta sulla strada provinciale Mezzina per recuperare un'auto finita in un fossato scivolata per oltre 5 metri. Il conducente del veicolo è rimasto illeso ma a causa della zona particolarmente impervia il recupero del mezzo ha richiesto l'uso di un autogru. Dopo quasi due ore di lavoro i Vigili del Fuoco sono riusciti a riportare l'auto sulla carreggiata ripristinando la normalità sulla strada. Una bella novità è stata introdotta dalla Comune di Comunanza. La giunta Sacconi che si è insediata da tre mesi ha infatti coniato la figura del consigliere Amico, un progetto che coinvolge le persone con disabilità avvicinandole alla politica. Matteo Wolfili. Favorire l'integrazione nella comunità dei concittadini affetti da disabilità e allo stesso tempo avvicinarli alla politica è questo il lodevole obiettivo che si è posta all'amministrazione comunale di Comunanza che dallo scorso giugno è guidata dal sindaco Domenico Sacconi dopo le elezioni che lo hanno visto vittorioso nella sfida contro Alvaro Cesaroni. Accanto ai consiglieri comunali infatti sono stati scelti alcuni consiglieri amici che quotidianamente accompagnano il sindaco nelle sue uscite pubbliche partecipando ai vari eventi promossi sul territorio in tal modo queste persone possono integrarsi maggiormente nella comunità ed essere parte attiva nella politica cittadina come sottolinea lo stesso Domenico Sacconi. È una piccola cosa che facciamo con grande discrezione abbiamo creato il consigliere amico quindi l'amministrazione comunale oltre ad avere i consiglieri comunali ha anche i consiglieri amici ci sono dieci ragazzi con disabilità che vivono vivono le esperienze insieme all'amministrazione quindi ogni volta che il sindaco o il vice sindaco fa una presentazione va in una scuola va in qualsiasi posto è accompagnato dal consigliere amico è un modo per vivere nel modo più giusto credo la quotidianità. Consigliere amico che ovviamente verrà in qualche modo coinvolto nel corso dei vari progetti no? Sì 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 il consigliere amico ripeto insieme alle famiglie ma con molta discrezione e attenzione che sono temi molto delicati cerchiamo di avvicinarli alla vita amministrativa per quello che possono e ci piace tenerli con noi coccolarli e farli sentire veramente della nostra comunità. L'attore e regista Edoardo Leo in tour negli Atenei italiani ha fatto tappa all'Università di Macerata per noi c'era Daniela Curini Io ho tradotto dall'inglese al dialetto romano e napoletano e quando fai questo tipo di traduzione ti accorgi di tante cose che stanno nel testo dico non ti hai reso conto e quindi è stato un viaggio che ho fatto anche come essere umano non solo come regista ma come sceneggiatore dentro un'opera che ci racconta il contemporaneo molto meglio di altri non è un caso che lo è e resta un classico violenza di genere gelosia maschilismo anaffettività razzismo sono tra i principali temi che l'attore e regista Edoardo Leo ha trattato nel suo film Non sono quello che sono in uscita in sala il 14 novembre e che in questo tour negli Atenei italiani è venuto a raccontare agli studenti dell'Università di Macerata l'Otello di Shakespeare ha solo bisogno di essere riletto esattamente come scritto e con la forza del dialetto riportarlo al presente Iago, Otello e Desdemona sono purtroppo ancora tra noi la cronaca attraverso un grande classico ambientato nei primi anni 2000 una storia senza tempo in cui il bene e il male si mescolano in un vortice di inganni tra dimenti e folle e gelosia è quello che ha fatto l'attore e regista traducendo in romanesco napoletano un'opera di 400 anni ma incredibilmente attuale Qual è il segno che ha lasciato in questo caso? Quello più tangibile è scoprire che nel rapporto di possesso del maschile sul femminile dal 1604 cioè dall'anno in cui è stata scritta ad oggi certe dinamiche sono rimaste le stesse Gli studenti come si relazionano con te quando li incontri nelle università quali sono le domande le perplessità? Alcune di tipo accademico su come ho fatto la traduzione alcune contenutistico fanno riflessioni sul femminile sul maschile sul patriarcato è un tema drammaticamente attuale quindi li tocca in prima persona quindi ci sono varie varie reazioni ma in generale mi arriva una risposta di una generazione molto interessata Il rettore docente di letteratura inglese dell'Università di Macerata il professor John McCart ha molto apprezzato la sfida di Leonel voler prendere un testo classico intoccabile per riportarlo ad oggi Purtroppo stiamo qua 400 anni dopo Shakespeare dopo Tello a parlare di razzismo a parlare di femminicidio e a parlare del sessismo in generale però il lavoro che fa Edoardo Leo insomma col suo film di rinnovare il testo di Shakespeare di produrlo in qualche modo per i tempi nostri di trovare un linguaggio in questo caso i dialetti di Roma e di Napoli un linguaggio che poi ha un impatto anche sui giovani mi sembra una cosa molto efficace Una splendida opportunità per gli studenti è un'iniziativa che sosteniamo convintamente ha ribadito il presidente di Fondazione Marche Cultura Qui c'è un'operazione culturale ma c'è soprattutto un'opera di attualità un intervento nel sociale parlare di genocidio di femminicidi di gelosia tradimenti razzismo c'è tanto su cui riflettere quindi portare nelle principali università italiane un film come questo è una grande occasione Prove di innovazione per il turismo San Benedettese del Piceno domani venerdì 25 ottobre ultima giornata del workshop sulla Destination Management Organization promosso dall'amministrazione comunale vediamo di che si tratta nel servizio di Pierpaolo Flammini si chiama Destination Management Organization ed è un percorso innovativo per la gestione del turismo che su iniziativa del comune di Sabeletto si sta tentando di attivare non solo per la città capofila ma per l'intero Piceno l'obiettivo è di formare un centro organizzativo al quale collaborino diversi enti pubblici università associazioni di categoria imprenditori turistici ma anche associazioni ambientalisti operatori della cultura nei primi due incontri ottima e sopra le previsioni la risposta dei partecipanti che complessivamente hanno superato le 150 unità l'obiettivo è quello di creare una Destination Management Organization cioè un'organizzazione che possa in un futuro gestire il turismo in quest'area quindi non solo nella città di San Benedetto ma nell'intero circondario attraverso appunto una serie di pratiche e in questo caso stiamo utilizzando una pratica di partecipazione attiva della cittadinanza per predisporre quello che presto potrebbe essere una strategia per il futuro del turismo in quest'area se il progetto se il progetto DMO dovesse concretizzarsi San Benedetto sarebbe all'avanguardia nelle Marche allora in questo momento proprio un'organizzazione di questo tipo diciamo non ce n'è infatti anche in altre località stanno ipotizzando di gestire il turismo di organizzarli in questa maniera quindi in questo caso sì siamo un po' i conduttori all'avanguardia esatto di questo settore le tre macro aree di approfondimento da parte dei gruppi di lavoro sono accessibilità sostenibilità e innovazione l'obiettivo è questo è costruire questo organismo di governance turistica territoriale che nel nostro territorio attualmente manca e che riesca a venire incontro a tutte le esigenze dei vari operatori nel campo del turismo e che sia un'interfaccia unico per l'intero territorio anche in termini di promozione e di veicolazione dell'immagine del nostro territorio fuori dai nostri confini gli imprenditori privati sono consapevoli dell'opportunità e anche delle difficoltà di questa iniziativa ma si mostrano molto propositivi per la costituzione del DMO è un'iniziativa sicuramente molto lodevole è un'iniziativa che noi speravamo si facesse prima o poi e si sta facendo quindi io confido che diventi qualcosa di reale è chiaro che è molto molto difficile ci sono delle problematiche da risolvere quando si uniscono tante teste diciamo ci sono un po' di rischi anche personali nell'unione proprio però ecco se riusciamo a superare questi ostacoli sicuramente può diventare qualcosa di veramente importante un tavolo congiunto che vede la parte pubblica con l'imprenditoria perché senza questa unione senza questa sinergia sicuramente non si può ripensare o pensare un territorio e mettere a terra delle strategie comuni per rendere veramente una comunità sfidante e con degli obiettivi vincenti adesso una brevissima pausa torniamo tra poco con lo sport